i relatori, il prolettore Vicario Masiani, Brugnoli, Ciccaresi e Ferrara da prendere, accomodarsi qui al mio fianco. Venite, venite. Adesso recuperiamo questa cartella un attimino. La recupero più. Dov'è? Ecco. Allora, io più che fare un discorsetto generico di benvenuto, ho preparato una serie di poche immagini, tutti noi dovremmo essere un po' contenuti perché sapete che il tempo che abbiamo a disposizione è quello che è. Vi invito tutti comunque a rimanere fino in fondo perché poi faremo un brindisi a questa legge Atelli perché oramai è stata battezzata così. Prima di tutto devo ringraziare il consigliere Massimiliano Atelli, questa persona che sta qui in prima fila che poi concluderà, lui non lo sa, però oggi lo dico così, concluderà logicamente questa serie di incontri interessantissimi sui stati generali del verde urbano, del verde pubblico, urbano, non so, abbiamo la possibilità di muoverci. È stata una sua intuizione, devo dirvi che è un vulcano quest'uomo, ve lo dico perché su questo argomento continueremo. Ha trovato anche validi sostegni comunque molto interessati, quindi penso che il prossimo anno ci saranno altre occasioni di incontro su questa importantissima tematica. Si è inventato questi stati generali nel giro di un mese e mezzo, due mesi penso. Infatti me lo comunicò, io telefonai al mio amico Brugnoli che stava in Giappone al CNR e gli disse il 20 ottobre perché tanto avevo capito che era una cosa a cedere invece per fortuna il 20 novembre quindi abbiamo avuto tutto il tempo per organizzare in posti bellissimi, ho visto dei palazzi gli altri giorni così e spero che anche oggi siano contenti di essere qui all'Orto Botanico. Come vi dicevo al termine ci sarà un brindisi, ci salutiamo con questo e coloro che desiderano visitare l'Orto, abbiamo preparato anche una visita un po' breve però siccome si è parlato tanto di alberi monumentali uno sta qui, noi ce ne abbiamo solo qui all'Orto Botanico circa 400 piante secolari quindi forse vale la pena se il tempo oltretutto ci viene incontro come sto vedendo che sta notevolmente migliorando. Allora alcuni spunti, apriamo per introdurre questo argomento su questa importantissima tematica tanti di noi fanno ricerca sul verde urbano, avere un riferimento, una legge è veramente un motivo di grandissima soddisfazione perché questo cambia radicalmente anche il conto della legge. molti hanno ricevuto, se qualcuno non l'ha ancora ricevuto, un breve opuscoletto dedicato alla Carta di Roma, ieri la dottoressa Gianatano ha citato questa Carta di Roma, si è parlato in questi giorni spessissimo di questo incontro tra cultura e natura e in effetti la Carta di Roma è un documento di sintesi, un documento approvato nella parte finale del semestre italiano e sta avendo come potete immaginare una grande rispondenza a livello internazionale perché un po' tutti noi, tutta l'Europa, questo nasce nell'ambito europeo però non solo nella cultura europea, il legame tra cultura e natura è evidentissimo. quindi vi invito a prendere questo documento e ad analizzarlo attentamente perché diciamo che è una sintesi fatta un anno prima su tante cose che ci siamo detti in questi giorni. L'interesse su questo argomento è straordinario, sapete che è uno degli indicatori di interesse e basta vedere il numero di pubblicazioni che ci sono su questo argomento e vedete come sono andate crescendo negli ultimi anni. Ora, anche qui, perché tutelare la biodiversità nelle aree urbane? In questi due giorni si è detto in tantissimi modi diversi e ce lo siamo già detto insomma, adesso quindi non credo di dire particolari cose nuove ma siccome tutti questi tre giorni come sapete sono registrati, sono mandati via streaming, è bene anche che restino degli elementi di riflessione perché in qualche maniera poi noi dobbiamo arrivare ai comuni insomma, ecco questo è il punto fondamentale. Quindi dobbiamo aprire un dialogo sereno con i comuni, i comuni devono capire che da questa legge ci hanno tutto da guadagnare perché se non chiariamo subito questo con i comuni non andiamo da nessuna parte, specialmente in questo momento così difficile. collegare le persone alla natura, guardate io non sono una di quelle persone che dice che tutti gli interventi al verde devono essere fatti con piante autotone, però credetemi nel verde pubblico, nel verde urbano è sempre più urgente questo e il clima, il cambiamento che ci abbiamo in corso, questi fenomeni straordinari impongono. il sindaco di Forte dei Marmi l'altro giorno ha fatto vedere quel disastro straordinario che c'è stato lì a Forte dei Marmi perché era tutta una pineta che era stata messa al posto del Bosco di Leccio. Questo va detto, questo non significa che non si debba più utilizzare il pino, non vorrei essere, però specialmente nell'ambito pubblico delle città il forte collegamento con la vegetazione autotona diventa un punto su cui dobbiamo fortemente riflettere, ma anche sugli interventi di mitigazione, sugli interventi di recupero, che ripeto non con la logica solo quello, però un'attenzione maggiore oggi va posta perché anche lo stesso fenomeno che è successo in Giappone con lo tsunami hanno subito rifatto 300 chilometri di foresta autotona. Nel prossimo anno vi farò vedere un filmato troppo divertente che mi ha fatto vedere il mio collega giapponese, anziano, posso dirlo tranquillamente perché ha quasi 90 anni, quindi mi sta bene dire anziano a lui che ha quasi 90 anni, che però ancora lavora intensamente. Loro hanno fatto un filmato, mi hanno andato in tutte le scuole e hanno spiegato che quel disastro è stato legato alla sostituzione della fascia forestale con piante non autoctone e il disastro. I ministri, tutte le scuole si sono messi tutti a ripiantare le piantine delle piante autoctone e è partita una riforestazione di 300 chilometri, non un giardinetto, che già sta dando dei risultati molto significativi. Poi un'altra cosa molto interessante è che questo è uscito sull'importanza del verde urbano, non è vero che in città non ci sia biodiversità autoctona e qui abbiamo Cignini, il nostro membro del comitato, ma lui prima deve essere venuto comunitato è uno zolo. E sa bene, mai come in questo momento la città è diventata un punto di approdo di tutto, una quantità di nicchie ecologiche straordinarie, di habitat che vanno bene. Quindi questa è un'altra cosa, dicevo, non mi ricordo dopo quando insomma se pensate qui a Roma verso il Pigneto ci sono dei boschi di sughera e di cerro che non si trovano più fuori. Quindi la città è un sistema talmente straordinario che si può permettere addirittura di avere non solo a livello di specie ma anche a livello di comunità e di paesaggio elementi che fuori sono scomparsi per ovviamente un'attività agricola più intensa. Quindi anche proprio da un punto di vista strettamente naturalistico le città sono una cosa straordinaria. La città di Roma, poi ve ne parlerò in un altro momento, vi sapete, flora autoctona e fauna autoctona. In questi due giorni si è parlato poco di fauna autoctona, invece secondo me uno dei punti su cui dovrà insistere il comitato è che quando parliamo di biodiversità non dobbiamo mai scindere l'insieme di questo complesso perché intanto poi è automatico, se facciamo, se studiamo bene la parte geologica che sta a monte di tutto, a questa ci associamo delle buone comunità vegetali giuste e queste ospiteranno una grande ricchezza di fauna. E questo immaginata ai fini dell'educazione ambientale e poi i colleghi stamattina poi ci diranno invece i vantaggi anche più legati alla salute, all'abbattimento dell'inquinamento, a tutte le altre questioni. Un altro spunto interessante, ce l'abbiamo le città metropolitane, a me piace quando c'è una legge, anche qui se non ci fosse la legge che ci dice quali sono le città metropolitane, le città metropolitane sono queste 10, più quelle 5 delle altre zone autonome. Benissimo, perché faccio vedere questo? Perché le città metropolitane in Italia sono una cosa assolutamente straordinaria e unica, se voi andate in America, le città grandi sono poche e il resto sono tutte piccole cittadine, così anche un po' in Francia. Questo elemento invece di avere noi delle città metropolitane, intendo quindi delle province come carattere, diciamo Milano è più piccola, però se prendo tutta la provincia non si va che noi abbiamo come sarà fra poco Pechino, 100 milioni di abitanti e poi altri paesi piccoli, no, noi sono tutte molto confrontabili, non è che c'è una grande 10 volte più delle altre. E uno degli elementi che vi vorrei fare osservare è il ruolo dell'agricoltura in queste nostre città metropolitane, quindi nel verde urbano non possiamo trascurare l'integrazione profonda col sistema agricolo. E non a caso, non a caso avete visto, abbiamo più avanti un intervento sugli orti urbani portato a un progetto di Italia Nostra, orti urbani che non dovrebbero essere dedicati solo, che è importante, alla produzione, all'incontro, oggi sono più socializzazione, incontro di persone, io credo anche superamento, incontro multiculturale, gli orti urbani potrebbero sviluppare una funzione di integrazione dei migranti, rifugiati, si potrebbe aprire un campo straordinario sul tema degli orti urbani con le diverse funzioni che può sviluppare. Ma questo è interessantissimo, guardate, io logicamente sono un po' di parte, ma vi faccio vedere un attimo Roma, pensate, abbiamo l'area agricola 58,5, dentro il raccordo anulare il 33% di agricoltura produttiva, su 30.000 ettari 10.000 sono di agricoltura produttiva dentro il raccordo anulare, non in 30.000, non in 120.000 ettari quanto è grande la città di Roma. Però guardate le cose interessanti, 58,5 e 27,2 di aree naturali e seminaturali che abbiamo nel Comune di Roma. Poi tutti gli altri, anche Bari, 88,3% aree agricole, Bologna 68, 43, Genova, beh, Genova, aree agricole, Genova non è tanto facile, però attenzione, Genova 82,4 di natura, di ambiente naturale e seminaturali, quindi pensate che network, che rete straordinaria che abbiamo su questa questione delle nostre città. Solo spunti, un'ultima cosa, un'ultima cosa, i grandi cambiamenti che ci sono stati nelle aree urbane. Anche qui abbiamo documenti, ci raccontano tutto, guardate, 54, 80. Volevo sintetizzarvi tutto su questi dati, guardate, nel 54 abbiamo 156 patch, 156 poligoni che coprono circa 126 mila ettari di terreni di sistema agricolo, sto parlando. Nel 2001 questi poligoni sono diventati 728 e coprono solo 22 mila ettari. Non devo andare a cercare chissà quanti dati per far capire che cosa è successo, non solo come consumo di suolo e qui lo dico al nostro Presidente Adelli, insistiamo perché sul consumo di suolo una legge la dobbiamo portare a casa prima o poi, non è possibile, sul rallentare o fermare il consumo di suolo, ma su questo problema enorme della frammentazione, ossia noi prima avevamo grandi distese di sistemi agricoli che coprivano superfici molto vaste e poi improvvisamente sono diventati tutti i poligoletti piccoli. Nelle zone esterne il fenomeno dell'abbandono ha fatto altri casi, per esempio in Sabina c'eravamo, che posso dire, 20-30 pecce, adesso c'erano uno solo e tutto bosco. Quindi in questo momento noi viviamo il fenomeno dell'abbandono e dell'intensificazione con trapposti che danno risultati veramente su cui dobbiamo, ma stanno però, non vi sto parlando della magliella, vi sto parlando della campagna, ossia della città, sono proprio interno al tema del verde urbano, capito? Non mi sto allontanando troppo da tutto questo elemento. Ultima cosa, tantissimi studi, questa mappetta qui che voi vedete è la mappetta che ha originato il no dei 3 milioni di metri cubi di torma arancia. Questo lo dico, questa mappetta segnava, sono 100% il censimento delle specie all'octone nella città di Roma e vende fuori benissimo che il cuneo verde del parco dell'Appia Antica era quello che aveva meno specie all'octone, che per noi non sono un elemento di grande interesse, anzi a livello mondiale sono considerate un grande pericolo la presenza di specie all'octone. tramite questi dati oggettivi si decise di evitare di fare un ponte straordinario per specie all'octone perché 3 milioni di metri cubi costruiti in prossimità di una zona priva di specie all'octone avrebbe significato costruire un ponte per l'invasione di questi elementi. Guardate un altro dato interessante, quando dicevo il verde urbano è ricco, è ricchissimo di biodiversità, dentro l'accordo anulare ci sono 1300 specie, esattamente quanto ce ne sono fuori dell'accordo anulare, dentro l'accordo anulare, non nella zona più costruita. Un altro elemento interessantissimo di questa nostra città, un altro parametro interessante, guardate Milano, ieri si parlava del Milano che ricicla molto, c'era il nostro, e diceva di ripeto, diceva noi siamo bravi, va bene. Roma ha tantissime specie e pochissime specie aliene, Milano purtroppo non ha tante specie, ha tante specie aliene, in termini percentuali del 25%, quindi su questo tema delle specie aliene è un altro argomento su cui anche da un punto di vista professionale dovremo aprire un discorso con i vivai perché può diventare veramente un elemento dirompente per queste nostre città metropolitane. Bene, ultima cosa, infrastrutture verdi. Il Ministro dell'Ambiente sta seguendo attentamente questo grande progetto dedicato agli ecosistemi, alla valutazione degli ecosistemi, dello stato di conservazione, delle priorità, non è argomento specifico di oggi, però per farvi capire che quando si parla di infrastrutture verdi, che sono la parte terminale di questo straordinario progetto europeo, è la parte terminale. Non si inizia con le infrastrutture verdi, si inizia conoscendo bene, come dice anche la carta della natura, oggi è una giornata dedicata alla ricerca, conoscendo bene il quadro di informazione della ricerca, dell'informazione di base per poi costruire un'infrastruttura vera. Questa era quell'ipotesi di infrastruttura che volevamo fare qui sulla tangenziale invece di abbatterla, trasformarla in una stupenda di infrastruttura e chissà, forse ci riusciremo, questo dipende moltissimo dal comune ovviamente, queste sono delle scelte che fanno i comuni. Ultimo elemento, io volevo far vedere la quantità di aree dismesse che ci sono nel verde urbano, nelle città, io ho dati ovviamente su Roma, non so, quindi abbiate pazienza, esistono, tutte le città hanno… ecco per esempio noi qui avevamo individuato queste straordinarie aree dove si potrebbero fare coerentemente con la legge che noi stiamo festeggiando degli interventi molto importanti, tutta l'area della Diburtina, la 24, Scalo San Lorenzo, queste sono tutte aree aperte che bisognerebbe occuparsene rapidamente o evitare che queste aree aperte diventino magari intorno a Diburtina tutti gli alberghi, tutte le cose. Questo lo si fa bene conoscendo bene quello che sono le reti ecologiche, ieri erano state citate, le hanno messo, sì le conosciamo bene, ma tutte le città ce l'hanno, Milano ha una bellissima rete ecologica, c'è una partita da questa, questa è la rete ecologica della città metropolitana di Roma, tanto per farvi capire l'importanza del sistema agricolo, 54, 2010 guardate è rimasto perfettamente la tenuta del Cavaliere che forse molti di loro conoscono, abbiamo all'interno di questo nostro territorio delle cose veramente molto significative e questo concludo è lo sprawl della quantità di aziende agricole che esistono nella campagna romana. Quindi in conclusione ci tenevo ad aggiungere nell'ambito del verde urbano, nella logica di come l'abbiamo affrontato dal primo giorno, nella logica di un sistema che ospiterà qualcosa come il 70-80% degli abitanti di un paese, di introdurre fortemente la presenza dell'agricoltura, l'agricoltura prevalentemente ovviamente nel quadro dei sistemi produttivi reali come è compito dell'agricoltura e poi con tutte le altre funzioni che vengono dal sistema agricolo. Detto questo vi ringrazio, spero di aver buttato un po' di idee, forse un po' tante e do la parola adesso all'amico Renato Masiani, il prolettore vicario di Savienza, io sono molto contento che tu sia qui perché per noi è un segno di considerazione, di alta considerazione del nostro Ateneo rispetto a questa tematica e quindi ecco il microfono. Grazie Carlo dell'invito, ci sono molti motivi per cui anche io sono molto contento di essere qui, uno lo raccontato prima a Carlo è che io dal 63 all'85 ho abitato qui a Via d'Alungara, e quindi... No, non Via d'Alungara, però andavo a scuola lì, andavo a scuola tra l'agne al quadro e mi ricordano gli elementari e la maestra diceva che fa tuo padre e qualcuno rispondeva star cieli e io che venivo dal nord perché io vengo da Genova, ma cos'è questo luogo di cieli, cos'è sta cosa? Era molto diverso, il quartiere della stessa era molto vero, non c'erano i barchi, non c'era questa mannaia delle ore 10 per entrare, era un altro mondo devo dire, era un altro mondo. Consentitemi di portare i saluti naturalmente, essendo qui del rettore che non può esserci e di tutta la sapienza, ringraziando che ho organizzato questa giornata di grandissimo interesse su un tema devo dire, sul cui interesse non c'è da spendere parole naturalmente, ma in un luogo che per la sapienza è di grande interesse molto bello, molto al centro di Roma, molto vissuto dalla cittadinanza, dai cittadini, dai bambini che abbiano qui intorno e su questo luogo come su altri luoghi di sapienza, la sapienza vuole investire, l'ha già fatto e continuerà a farlo, vuole incentivarne l'uso, vuole aprirli alla cittadinanza, stiamo per aprire il teatro Ateneo, abbiamo organizzato dei luoghi di uno per esempio a Piazza Borghese, abbiamo chiamato Caffè Letterario, questo è un altro luogo che si può utilizzare in tante occasioni e spero che il padrone di casa ci consentirà di farlo, ci consentirà di farlo e sicuramente ci sarà modo, quindi questa è la prima cosa. Per quanto riguarda il tema specifico della salute, naturalmente qui dovrà parlare il rettore sul tema della salute, io posso dire poche cose, forse già note, posso ricordare che la correlazione tra il verde urbano e la salute pubblica è una questione nota da tanto tempo naturalmente, ho trovato una citazione di un igienista dei primi del novecento, di Giaxa, che parla di verde sanitario nella città, naturalmente oggi questo tema noi riusciamo a declinarlo in modo più approfondito e migliore, non c'è bisogno che sia io a dire, credo che sia stato già ampiamente ribattuto, il tema dell'importanza del verde urbano nella lotta a varie forme di inquinamento, l'inquinamento acustico, l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento, insomma la sicurezza anche dei pendigli e dell'ambiente, prima tu citavi venuto in mente, io sono di Genova, andato a Genova, tu hai citato, hai fatto vedere con la statistica, Genova ha una bassissima percentuale di verde agricolo e devo dire che i risultati e gli effetti si vedono tutti, adesso se poi sia la causa o l'effetto, l'effetto la causa, probabilmente le cose vanno insieme, ma insomma devo dire che c'è questa forte correlazione, ma posso ricordare che il verde urbano ha altre implicazioni sulla salute in senso lato, forse ancora più forti, ha per esempio una fortissima implicazione sulla salute psichica, psicofisica degli abitanti di una città. Uno dei motivi, non probabilmente l'unico, ma certo non l'ultimo della difficoltà di vivere nelle nostre periferie e anche della difficoltà di gestire il disagio sociale, ne vediamo purtroppo esempi anche in questi recentissimi giorni delle periferie, delle grandi città, è anche legato all'ambiente urbano e devo dire che la mancanza di verde in questi luoghi probabilmente crea una parte dei problemi, se le periferie fossero ricche di verde urbano probabilmente la salute psicofisica ma anche le relazioni sociali di chi vi abita potrebbero essere molto diverse. E qui potrei venire un altro tema riguardo invece la ricerca e ricordare nell'ambito dell'architettura, che è un ambito che conosco meglio, io sono ingegnere civile ma diciamo che da 30 anni insegno la facoltà di architettura di cui mi sono onorato di essere preside fino ad un anno fa, quindi è un ambiente che conosco abbastanza bene, nell'ambito dell'architettura uno dei temi di ricerca, devo dire, più recenti e più attuali riguarda proprio il verde urbano, anzi una forma ancora più spinta e più diffusa di verde urbano che è quello che va sotto varie denominazioni, incominciare dalle vertical farm che sono quegli edifici alti in cui siano inserite attività anche agricole, naturalmente microattività agricole a vari livelli, c'è il famoso progetto del Gattacielo a Milano di Boeri di cui si sta discutendo in questi giorni, ma c'è il tema del verde verticale, ormai sono interventi frequenti, forse meno frequenti qui da noi ma molto più frequenti all'estero. Ragionavo prima che il verde nel progetto di architettura fino a un po' di anni fa, devo dire abbastanza anni fa la situazione è cambiata, era un elemento di ornato, oggi non è più un elemento di ornato il verde ma è un elemento di progetto, è un elemento di progetto che ha un ruolo fondamentale nel progetto, non ultimo quello di aumentare il comfort ambientale degli edifici, proteggendo dai colpi di calore, dagli eccessi di calore, regolando l'umidità, regolando la purezza dell'aria, regolando lo scorrimento delle acque, quindi questo è diventato nell'ambito dell'architettura un tema centrale, un tema centrale direi, non è più bello, estetica, non è più una questione estetica ma è diventato un tema centrale del progetto di architettura. Ce ne sono tanti esempi, io ho visitato qualche tempo fa il museo Brainly di Parigi sulle arti popolari e diciamo quello è, non so se spesso lo conosciate tutti, ma ha un bosco, uno entra in un bosco, poi attraverso il bosco e poi dentro il bosco c'è questo edificio che peraltro poi ha queste facciate verdi molto estese e molto curate, l'effetto è notevole, credo che questi interventi noi li dovremmo moltiplicare, ormai l'architettura si è orientata in questa direzione, c'è un problema di formazione naturalmente degli architetti su questi temi, ma insomma le scuole di architettura si stanno attrezzando, naturalmente si possono attrezzare di più, in questo bisogna stringere collaborazioni multidisciplinari, però adesso io stavo per fare una battuta leggermente polemica perché diciamo che le norme e le leggi di riforma all'università in questo non è che ci hanno favorito molto, ecco diciamo hanno non favorito, stavo per dire mortificato, forse eccessivo, ma certo non favorito il tema del, lo posso dire, diciamo hanno alcune delle recenti riforme hanno in parte mortificato il tema della multidisciplinarietà, tendendo a richiuderci in confini, in ambiti ristretti, cosa che non credo che sia utile a nessuno e quindi diciamo che noi questo lo sappiamo bene e quindi in realtà ci stiamo operando in senso opposto. Io non vorrei portare via alto tempo alla discussione e all'approfondimento di questo tema e quindi ringrazio di nuovo chi mi ha invitato e ascolterò con grande interesse chi mi seguirà. Grazie. Grazie Renato, hai toccato un punto essenziale giustamente tutto questo tema specialmente del verde negli aspetti più di carattere architettonico che a noi ci interessa tantissimo perché da una parte svolge delle funzioni specialmente nelle città molto costruite ma comunque ovunque perché poi i centri storici sono tutti molto costruiti, dall'altro ci interessa molto come botanici come ecologi vegetali perché impone una ricerca molto attenta sulle sementi, sulle specie da utilizzare in questi contesti perché hanno delle ricadute molto particolari. Quindi quello potrebbe essere un filone di indagini, si parla tanto di banca del germoplasma, il nostro Paese non è assolutamente pronto a fornire i semi giusti, pensate che addirittura nella tenuta di Castelporsiano, nella tenuta del Presidente abbiamo il problema dell'acquisto di questi sementi per il miglioramento dei pascoli perché il bello è stato che la sensibilità pensate non sono stato io che ho posto il problema ma mi è stata chiesta una soluzione a me da coloro che operano in quel campo quindi significa che stiamo molto avanti, ossia noi abbiamo fatto il censimento, ci siamo accorti che c'erano delle specie, ma che stai dicendo? da dove viene? Stiamo rivedendo tutto il piano del miglioramento dei pascoli tenendo conto di questo carattere, pensate quindi che filone come dicevi te è oggettivamente integrato. grazie ancora e adesso passiamo la parola a Lorenzo Ciccarese, allora tu ti prendi questo, io ti ridò, Lorenzo Ciccarese, ISPRA, consiglio scientifico, ISPRA sì appunto, io ti ringrazio molto di essere qui e siamo ad ascoltarti. Ok, grazie professore, grazie dell'invito. Io volevo iniziare la mia presentazione parlando, se ci riesco, ok, da questo studio è apparso un paio di mesi fa su Nature, la rivista inglese, di un gruppo di ricercatori, un gruppo internazionale di ricercatori scienziati che è giunto alla conclusione che sul pianeta sono presenti circa 3 trilioni di piante, un numero siderale, sono circa 3 milioni di milioni di piante, con dei risultati, la buona notizia è che il numero delle piante contate, diciamo così, da questi ricercatori che hanno utilizzato strumenti ovviamente basati sulle immagini satellitari integrate con i 400 mila punti a terra, dicono che gli alberi sul pianeta sono circa il 40% in più rispetto a quelle che si riteneva una volta, sono invece il 46% in meno rispetto alle piante presenti all'inizio del Neolitico. E quindi c'è una buona notizia da una parte, abbiamo scoperto che abbiamo delle piante in più, dall'altra invece abbiamo perso quasi il 50% delle piante presenti sul pianeta. questa ricerca insieme ad altri elementi, quali per esempio questa famosa campagna che ha visto come principale campaigner la Wangari Matai, premio Nobel morta purtroppo di recente, che aveva lanciato questo programma del Billion Tree Campaign che ha portato alla costituzione, alla realizzazione, alla messa di mora di circa 14 miliardi di piante, benché fossero partite dal target un miliardo di piante, che ha come slogan questa famosa frase che dice Every tree counts and we count for trees. Quindi questi elementi insieme, se volete, anche al famoso libretto di Jean-Jean-No, l'uomo che piantava gli alberi e tantissimi altri elementi, ci dicono che c'è uno spostamento quasi culturale del focus, dell'attenzione da grandi superfici, dai biomi alle singole piante e questo perché a mio avviso evidenzia l'importanza che viene assegnata anno dopo anno, l'importanza maggiore, l'uomo maggiore che viene assegnato alle singole piante per via dei grandi servizi, le funzioni che gli alberi singoli, individuali, offrono alla comunità locale e globale e quindi ogni albero conta e noi dobbiamo contare questi alberi. Questi alberi forniscono una serie di servizi, non mi voglio soffermare su argomenti, concetti che verranno ripresi dai relatori illustri che mi seguiranno, ho qui due diapositive, frutto di una collaborazione padre e figlio, mio figlio mi ha mandato queste foto che evidenziano il ruolo importante che gli alberi hanno per esempio nel miglioramento dell'ambiente, del paesaggio, in questo caso una linea tramviaria a Milano e giù invece un mercato della Col di Retti, penso di fare pubblicità, vicino a Santa Costanza. Immaginate cosa sarebbero questi luoghi senza queste piante, quindi questa è una direttante funzione dei servizi che sono stati categorizzati dal famoso rapporto Millennium Ecosystem Assessment circa dieci anni fa, che in sostanza raggruppa in quattro categorie i servizi ecosistemici forniti dagli ecosistemi e in modo particolare dagli alberi, ai quali veniva riconosciuta fino a qualche decennio fa prevalentemente la funzione di provisioning service, cioè la funzione di produzione di legname e di prodotti non legnosi, mentre adesso il focus, l'attenzione si sposta prevalentemente sugli altri servizi forniti dagli alberi, dalle foreste in generale, che riguardano per esempio la fissazione del carbonio, quindi sappiamo quanto questo sia importante anche in prossimità del prossimo negoziato di Parigi sul clima, dove le foreste, la deforestazione, la forestazione, la reforestazione e la giusta corretta gestione del patrimonio forestale globale ha nelle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Questo è un po' un punto di partenza e questa è la situazione, anche questa è una forma di collaborazione con altri miei colleghi dell'ISPRA sul consumo di suolo e questo è quello che è successo in Italia negli ultimi 60 anni, cioè siamo passati da un percentuale di copertura infrastrutturale del suolo del 3% immediatamente subito dopo guerra, addirittura al 7%. Noi consumiamo mediamente, abbiamo consumato mediamente in questi 60 anni circa 7 metri quadri di suolo al secondo. Questo ovviamente è preoccupante, qui ci sono insomma dei dettagli, queste due grafiche che mostrano come il consumo di suolo in 8.000 municipalità in Italia rappresenta un motivo di grande preoccupazione, soprattutto per il bacino del Po, il principale di centro urbano ovviamente è lungo la fascia costiera. E qui abbiamo invece delle immagini ripreso dell'ultimo rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, recentemente offerta da Silvia Brini che vedo qui in prima linea. Questo rapporto vedrà una prossima pubblicazione credo il 15 dicembre e ci dice, insomma, ci date l'informazione sulla superficie di verde urbano presente nelle città italiane. Mediamente sono a disposizione 32 metri quadri per abitanti, il 40% dei capoluoghi di provincia del nord offre agli abitanti una disponibilità di verde superiore alla media. Mi dispiace insistere su questo aspetto, i comuni della Liguria sono in basso a questa speciale classifica. E qui invece altri aspetti, indicatori importanti che erano stati richiamati prima dal professor Blasi che riguarda la disponibilità di aree agricole all'interno dei comuni, qui i principali capoluoghi di provincia e la presenza anche di di aree gestite secondo i criteri dell'agricoltura biologica. E qui invece abbiamo un altro grafico dell'Istat in cui abbiamo una combinazione di densità del verde urbano e delle aree naturali protette nei capoluoghi di provincia e spicca il valore per il comune di Roma. Questo è senz'altro un fatto positivo. E qui un'immagine che riguarda invece questo fenomeno dell'Ubran Sproul che indica il processo che aggiunge impatti negativi sull'ambiente, la diffusione delle città al di fuori del modello tradizionalmente compatto di costruzione delle città. Questo è quello che succede lungo la fascia costiera, circa il 20% delle aree buffer all'interno dei 300 metri dalla Battigia versano in questa situazione e questo è quello che succede invece sui corsi idrici in gran parte dei centri urbani italiani. Questa invece è una tabella che probabilmente non si vede molto ma ci dice che l'Italia è al primo posto in fatto di mortalità per effetto di inquinanti atmosferici. Ecco questo è un po' il contesto caro Massimiliano in cui si inquadra la legge 10 che tu hai fortemente voluto che ha come principali referenti, lo diceva anche il professor Blasi prima, le amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Ora la questione è questa che sappiamo tutti che ci sono dei grossi vincoli per l'implementazione di questa legge che sono legati prevalentemente alle scarse risorse finanziarie disponibili per queste amministrazioni. L'altra questione è che evidentemente il verde urbano, le infrastrutture verdi in generale non sono una priorità in questo periodo essendoci priorità di diversa natura legate all'occupazione, alla qualità, altri aspetti che le amministrazioni locali antepongono alla infrastrutturazione verde. C'è da dire però, e questo è un fatto positivo, che a livello comunitario e ancora di più a livello globale ci sono dei segnali forti che indicano che le infrastrutture verdi possono avere un ruolo importantissimo non solo nella rigenerazione, nella riqualificazione del verde urbano ma anche nel determinare un tipo di crescita, di sviluppo, di occupazione di cui farò vedere alcuni esempi che fanno ben sperare per una piena implementazione di questa legge. Io voglio qui citare solo alcuni strumenti normativi, programmatori della Commissione europea, dell'Unione europea che sono per esempio il settimo programma quadro per l'ambiente che fonda uno dei suoi pilastri sul capitale naturale e poi ancora Horizon 2020, lo dico a beneficio dei tanti scienziati e ricercatori che sono in questa sala, che fa uno specifico focus, ne parlavo prima con Manes, su nature based solutions e poi ancora le misure water policy, natural water retention, la strategia dell'uso efficiente di risorse naturali, la strategia dell'Unione europea sulla biodiversità che assegna all'infrastruttura verde un ruolo fondamentale, primario e poi ancora la strategia dell'Unione europea di riadattamento ai cambiamenti climatici. Su questo voglio ritornare in seguito e infine la parte essenziale che poi lega insieme tutti questi strumenti politici che riguarda la strategia del 2013 della Commissione europea sulle infrastrutture verdi. Salto volentieri questa pagina invece anche a beneficio di Anna Maria Maggiore che vedo in terza fila del Ministero dell'Ambiente. Nel corso dell'ultima conferenza delle parti della Convenzione sulla biodiversità perché c'è una conferenza delle parti anche per la biodiversità non solo sui cambiamenti climatici anche se spesso viene trascurata dai media. Durante il periodo di semestre di presidenza italiana dell'Unione europea siamo riusciti a far approvare due importanti decisioni che in qualche modo hanno a che fare con gli argomenti di cui stiamo discutendo. Una in particolare riguarda la decisione che invita fortemente i paesi a utilizzare gli strumenti ecosystem based, professore, per le misure di adattamento ai cambiamenti climatici e per ridurre i rischi da disastri naturali. L'Italia insieme al Giappone ha voluto fortemente questa decisione, siamo riusciti a farla adottare e questo è uno strumento politico globale di fondamentale importanza che rappresenta un punto di riferimento per tutte le politiche che poi a scala locale intendono implementare le infrastrutture verdi. Quindi le infrastrutture verdi sono importanti per ridurre i rischi di disastro naturale e per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Questa è un'immagine di New Orleans, tristemente nota. C'è uno studio che ho letto di recente che dice in sostanza che i danni che sono stati notevoli, miliardi di dollari, sarebbero stati ancora maggiori se non fosse stato perché la città possiede una sufficiente, adeguata infrastrutturazione verde. E poi ancora, questo è un argomento su cui voglio insistere in modo particolare, questa questione dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Sapete che il negoziato e le politiche per contrastare i cambiamenti climatici si svolgono su due binari. Da una parte la mitigazione che significa in sostanza una riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dall'altra quella dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo significa un'accettazione del cambiamento, un cambiamento ci sarà anche se dovessimo adesso spegnere le luci e ridurre a zero le emissioni di gas di serra. Quindi bisogna prepararsi, bisogna adottare delle misure adeguate per ridurre il più possibile questi impatti e i danni. Solitamente, questo lo si può vedere anche leggendo i piani di adattamento che i paesi hanno predisposto per adattersi ai cambiamenti climatici. I politici si rivolgono alle cosiddette infrastrutture grigie, alle grey infrastructures oppure le chiamano hard structures, dighe, ponti, bacini e via dicendo. Mentre invece uno strumento straordinario, efficace e anche cost efficient si basa sull'impiego di queste soluzioni, di queste opzioni nature based. Ci sono diversi esempi anche in Italia, vi ne mostro solo uno che riguarda il mio Salento, dove un progetto LIFE è diventato una storia di successo, una rinaturalizzazione, una restoration, come si usa dire adesso, di un'area fortemente degradata. Quindi le infrastrutture verdi servono anche per fare un adattamento ai cambiamenti climatici. e qui ho fatto un elenco dei principali, più significativi finanziamenti che vengono offerti per la infrastrutturazione verde. E non potevo non tacere, anche ricollegandomi a questo esempio della tangenziale est di Roma, di riportare una piccola informazione sul high line di New York. C'è una straordinaria similitudine con la tangenziale verde ed è incredibile che questo progetto trovi ancora delle difficoltà a decollare. Voglio riportare qui un articolo su New York Times che dice in sostanza che questo progetto, che inizialmente era avversato dallo stesso Bloomberg, sindaco di allora, poi è diventato invece una straordinaria storia di successo e soprattutto un economic dynamo. Quindi ha prodotto 12.000 nuovi posti di lavoro ed è costato molto di meno di quello che sarebbe costato demolire questa infrastruttura grigia. L'ultima cosa volevo dire a proposito di altri strumenti come ad esempio la possibilità per le municipalità per facilitare queste attività di infrastrutturazione verdi di aderire ai patti dei sindaci. E qui alcune considerazioni finali. Diciamo, è molto chiaro che la legge assegna alle amministrazioni locali un ruolo centrale. Questo complica le cose per la scarsa disponibilità di risorse economiche e anche di know-how, diciamolo. Però c'è un contesto che viene offerto soprattutto dalla Commissione europea, ma ci sono anche strumenti nazionali, regionali, che consentirebbero di trovare i soldi per fare queste cose. E anche c'è un problema che riguarda il mondo della ricerca. Allora, su questo il mondo della ricerca ha un ruolo fondamentale, anzitutto in termini di soluzioni. Perché c'è bisogno di individuare le specie adatte rispetto alle trasformazioni della chimica, della fisica dell'atmosfera, ma anche del suolo. C'è bisogno di individuare quali specie, privilegiare le specie native piuttosto che le specie non native. E qui volevo riportare due esempi. Sono due posti dove mi piace molto andare con la mia famiglia. E mia moglie trova che queste piante siano eleganti, raffinate. Qui siamo al macro e al maxi. Dove per infrastrutturare in maniera verde questi progetti, insomma, che sono stati concepiti da due archistar, hanno pensato di utilizzare delle specie altamente esotiche e altamente invasive, come l'ailanto. E a destra invece delle piante, che sono una specie che è conosciuta nel mondo come pioppo di Lombardia. Pensate a fare l'infrastrutturazione verde di un pioppo di Lombardia a Roma, in uno dei posti più belli. Questo ovviamente non è così grave, mentre è ben più grave quello che ho visto l'altro giorno davanti al Palasport, ieri. E poi con il mio amico Valerio siamo andati a vedere su Google Maps queste piante mancanti. Queste piante mancano perché alla base della pianta hanno messo dei collari di ghisa che hanno strangolato le piante. Allora, questi collari sono assolutamente inutili, molto costosi e quindi, insomma, anche lì c'è molto da fare. C'è molto da fare, quindi... Il problema però non è solamente, come dire, la responsabilità di questi archistar o degli architetti, designer. Probabilmente anche la nostra carenza, il mondo scientifico, dei tecnici, che... E qui viene il secondo punto importante sul ruolo della ricerca, no? Il fatto che spesso c'è un deficit nostro di trovare un'interfaccia con la politica. Io lavoro per un'agenzia, lavoro molto con il ministero e questa è una cosa che mi piace particolarmente. Perché, insomma, c'è la possibilità di rendere immediatamente efficaci gli studi, le competenze che uno ha e metterle a servizio del Paese. In questo caso c'è bisogno che i tecnici, gli esperti, gli scienziati dicano alle municipalità, perché loro realmente ne hanno bisogno, perché mancano i fondi, mancano le competenze. Quali sono le specie, qual è l'altezza delle piante che devono avere per, come dire, svolgere nella maniera migliore la capacità di fissazione del carbonio, di abbattimento delle polveri, di resistenza agli inquinanti dall'ozone e via dicendo. Quindi questo. E se posso, due secondi su questo bellissimo grafico pubblicato sull'ultimo rapporto dell'IPCC. In sostanza dice che il pianeta, insomma, le comunità, la comunità umana, ma anche poi la vegetazione e la fauna, sono sottoposte ad una serie di stressors, di cui i cambiamenti climatici sono solo una parte, ci sono delle altre. Ogni volta che intervengono questi stressors, ovviamente la condizione, il benessere dell'umanità, ma anche delle piante, degli animali, viene portato in basso. Se siamo in una condizione di inazione, andiamo ancora più in basso e a quel punto diventa sempre più difficile la cosiddetta resilienza, cioè il recupero. E quindi c'è bisogno di agire, c'è bisogno di agire presto e agendo sulle infrastrutture verdi, come ci dice la Commissione Europea in particolare, ci sono dei vantaggi, che sono soprattutto quelli che vengono chiamati no regrets, che male non fanno. Grazie. Ti ringrazio, solo una piccolissima considerazione, questo quello che tu hai detto è assolutamente, oltre che giusto, saggio, perché in tante considerazioni finali si ritorna a quel buonsenso contadino che ogni tanto bisognerebbe anche cercare di recuperare. Tutti i nostri studi sull'elemento forestale ci porta come risultato che i boschi che hanno maggiore capacità di respingere fenomeni sono quelli ricchi di specie arbore. Per lungo periodo la selvicoltura, e qui dopo il Marchetti ci parlerà di questo, invece si è andato sfruttando prevalentemente il carattere produttivo di biomasse nel bosco, che attualmente si riconosce essere una delle caratteristiche, degli elementi di grande merito. Ma attualmente, proprio, dice non fa male, la logica omeopatica, come dire, dice intanto non fa male, la prima cosa che dobbiamo fare, perché se no continuiamo a parlare di adattamento ai cambiamenti climatici senza dire però come si deve fare. E una delle soluzioni sicuramente fortissime è quella di rendere i boschi più ricchi di specie arbore. E' una cosa semplicissima, perché poi il bosco fa da sé, morirà una specie perché in quel momento molto sensibile a quel inquinamento, però c'è stato un vicino che occuperà il suo spazio e nessuno se ne accorgerà. L'esempio tipico è la foresta del Circeo, io la cito sempre, la foresta del Circeo ha subito il più grande cambiamento climatico, la falda si è abbassata di 30 metri, quindi è partita che stava tutta in acqua, non c'è più una goccia d'acqua. La foresta del Circeo sta benissimo, però le specie sono le stesse, ma i rapporti quantitativi sono completamente diversi. Prima era tutta farnia, adesso è tutto scerra e sucra. Non se ne è accorto nessuno, tutti dicono che la foresta è rimasta così com'è. No, è rimasta foresta perché aveva 10 specie del genere Quercus e quindi bisogna dire le cose come stanno. Questo è il modello che noi dobbiamo portare specialmente nelle città, perché le città, che se ne dica, abbiamo detto che adesso hanno tanta biodiversità, però lo stress per le piante, sì, le piante è vivere lì come hai fatto vedere al palazzo così, ma non gli piace per niente. Le piante allineate e coperte una staccata dall'altro non esiste. Anche l'architettura dovrà tenere conto di questo, le piante amano vivere insieme. Quindi i parcheggi, ma basta, poi l'ombra, metteci una cosetta disegnata, bene, fatta, la sera architette e le piante, una isola di naturalità, in modo che uno, mentre aspetta che la macchina si rinfreschi, si legge il giornale sotto un boschetto che però vive bene. Perché come ci spiegherà Fausto, non è che la presenza dell'albero garantisce la funzionalità ottimale di quell'albero. Andate a parlare con i leggi che vivono dal muro torto e vediamo se sopravvivono e quanto ci danno a noi. Quasi niente, voglio dire, lì stanno lì e faticano a sopravvivere. Quindi questo elemento integrato, proprio come dicevi, di tenere conto di questi fatti è essenziale insomma. Bene, grazie, grazie, grazie. Adesso passiamo a un altro collega amico, Enrico Brugnoli, direttore del Dipartimento CNR, parlando di ricerca ovviamente non può non esserci il direttore del Dipartimento Ter e Ambiente. Quindi stiamo parlando di uno dei più grandi dipartimenti del CNR. Quindi tu sei uno che oggettivamente ha delle responsabilità enormi su tutte queste tematiche. Grazie.